Ma se ciò che la mia morte rende significativo, della mia esistenza, fosse una rappresentazione, credo che agli spettatori, miei nemici, che vogliono difendersi da me, direi, vi prego, siate come quei soldati, i più giovani di quei soldati, che sono entrati per primi oltre i reticolati di un lager. Tu sei morto, morto, morto! E lì, i loro occhi. Vi prego, siate giovani come loro. Ecco tutto. E ora, divertitevi. E ora, divertitevi.